blitz eh bendy aspetta arrivo dove sta sto qua ah fammo se l'ho ucciso sono dentro raga è dietro puoi cadere con l'ultima capica è dentro dentro qua vicino qua vicino più o meno uno è dietro lo specchio e l'altro è sopra raga non ho idea come che ha fatto non morire vabbè entri raga guardalo entra a sinistria c'è solo quella si entra sfide la vabbè ma dov'era oh me eh mo che cazzo sparco devi farti il giro da fuori farti il giro da fuori ti prego veloce veloce eh no che cazzo fai eh non ci ho fatto il tempo da arrivare ce la fai sta a sinistra ce la fai che c'è a sinistra dio cane non vedi eh ah la porta dietro i denti qua qua beh cazzo eh ma dovevi uscire da dietro di te e andare ah è 3 e 3 ai ai non è cosa io l'ho fatto in tempo a fare il giro non so che ho io covo se hai metto io sempre con le mie 8 game con le mie 8 game e lato calissima scena se non ti so che non è partita vedi che fagnola no e se senta si regola no ehi dopo in difesa si balichiamo come prima ma se la perdiamo per rompere il scatto e hanno cazzo le mutes e noi abbiamo solo le lecce capo che a noi inserzione in 10 second 5 secondi insertion proceed to the biohazard container and secure it oh raga cazzo al qua me lo potete distruggere ok ok dire un po' ah smutalo ma non c'è sento arriva arriva dirgli che stai avendo turdo vieni da me se no hai cu vai e poi quale eh le c'è fai la botola vattene 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 ho sparato a cazzo giurdo che continuare ora lo so che se fossing qualcuno un merda m uscedi uno vah che cazzo c'è sulle scale sta eccolo uno è qui dentro c'è solamente questo mi sembra no ce ne sono due pelle d'accordo bella come ha fatto riva come sto tattano a meno della metà della vita via la pena di gira destra sul suo suo capo di prego mera a te della trappola di capo ma mi fa passare aspetta stava dietro a sinistra la dietro no no che cazzo cazzo hanno lanciato la granata eh ho dovuto lanciare la granata eh ho sbagliato eh si via dove è ma dove è ma dove è ma dove è che cazzo a sinistra eh 733 mamma mia 3 a 1 però c'è sempre così ma pare vado a posto ogni volta che ci sto io con voi 3 a 1 mai seguito è 0 mai seguito no dove sei dai qualcuno che è barricata con me eh? dai dai ragazzi non c'è una sbarregata c'è una gran barricata dentro c'era switch, non mi sembra c'è una barricata perché io lo metto di là è la game stanno spaccando lì di merdi la bolla pure montagna sento mi sa no no ma l'ho preso un sacco di volte è uscito sparando il gioco è uscito sparando io l'ho preso no è morto non l'hai colpito un'altra volta no dopo che sei morto vabbè boom cazzo è uscito il sangue è morto adesso aspettami entratto uno mi sa parco dio porco regalo ormai te metà di vita abbiamo perso la scena è capitato a sinistra e un'altra a destra quindi tu mira a destra eh bravo mira là merda distruggilo distruggilo uscite quello da destra a da destra eh ma ti prego qui alla da destra termite termite a metà vita ok ok a destra calmo ti prego non ti prego puoi trovare la rucola eh ma non ti affaccia te stai sciando siiii no vabbè c***a 4-4 ciao almeno ho avuto la decenza di rimanere per un round primo classifica yeah ah se metterò un cucino o bar blu tanto più cucina ragazzi quindi qualcuno mi vuole aiutare a più del zepro che più meno uccisi due tra mi faccio mi cazzare come a best che venga a mazzapina sotto qua io quasi quasi voglio la taccia no eh prendi tanti prendi tanti ah mi senti così al mazzo no chiudo dal casco, dai cinghini no fare fare attoparbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarblu no mamma non parla il bambino al momento non lo voglio non lo voglio non lo voglio mi mamma non è benvenuto sull'indicazione ed è leggero scasciare tutto allora per cui non lo voglio Vieni con noi, vieni con noi, fanno una con noi. Ehm, sai che tu vieni con gol? Dove usiamo? Venga, aspetta prima di partire. E' ne uno sopra. No, non lo metto nemmeno. No, non lo metto nemmeno. Ah? Non lo metto nemmeno. No, cazzo, no. Eh, ma aspetta. C'è uno. Un po'. Speso, non so come. Non so come. Oh, devo scusare questa finestra. Prova. Sì. Allora, qui dentro. Un attimo, un attimo, un attimo. Real veloce, ti prego, guarda sopra. Un attimo... Ecco. Porta, tutta, mi chiamo. Allora, vai... Vai... Lindo, lì. è qua mi potete scottare dentro ci ho preso in testa metà cerata mi serve dove sono io arrivo arrivo vabbè venire almeno un fisodocco raga posso finire vai vai si vado no raga bandit da me eeeh bandit su sopra qua ah raga però non mi venite ad aiutare a 20 hp a 20 hp bandit real aspettate uno è dentro quindi uno è sopra 6 minuti dentro ok 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 buono 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 a 20 hp ragazzi faccio un colpo di là di là a destra di viene bene se ua eh ma 12 kg bravissimo vanno 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 cazzo smirato ma ma l'altro è legato del panino è un fuoco su 2 le vanno 12 di quattro trrrrrrrr eeeh si 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 yes 4 5 6 6 Grazie.